Hai mai guardato veramente le onde del mare? Hai mai provato emozione ascoltando la loro voce emergere dalle acque? Hai mai meditato oltre il loro eterno movimento? Ti sei mai fermato a immaginare tutti i velieri e le navi che hanno fruttuato su di loro? E quanta vita hanno sostenuto, quante vite conosciuto, per quanto tempo e per quanto ancora? Chi naviga scivola nel vuoto, nel vuoto milioni di onde, onde che vibrano e danzano, danzano al ritmo dell'antica. Devi prendere il tempo per quello che è e le onde per quello che sono e iniziare a guardarle, con occhi diversi, con gli occhi da chi è sceso nei fondali ed è risalito dalle profondità dei mari, trattando con sé infiniti mondi, invisibili, sconosciuti e profondi. Guardarle bene mentre il verbo va per fate, spruppuose, impiete o ruolo. Perché il viaggio dopo l'onda è anche il tuo viaggio, con quell'onda ci sei tu. Grazie. Grazie a tutti.